Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono SilvioSero10 e oggi siamo qui in questo nuovo vlog Volevo portarvi un video di FIFA 15 dove spacchettavo ma non è stato possibile Perché guardate un po' Allora FIFA 15 Guardate cosa dice Il mercato di FIFA Ultimate Steam non sarà disponibile fino a un nuovo ordine Volevo spacchettare perché ho notato che nel negozio c'è Ci sono i pacchetti da 100.000 crediti E ne volevo comprare almeno 10 Perché volevo vendermi un David Uliz Totti Messi Comunque Forse vogliono mettere le fasce di pezzo pure su FIFA 15 per Android Vabbè, non l'abbiamo, io ho Messi Me lo vendo David Uliz Totti Vendo anche lui Invece no Spacchetterò con i soldi che vincerò facendo stagioni Quanto ricaverò 50.000 Farò stagioni, almeno una stagione al giorno Sarebbero 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 53.000 crediti Io fino a settimana li spacchetterò Come potete vedere Lì abbiamo due pacchi Da aprire E non fan Non so chi sia Vediamo Ne aprirò solo uno L'altro La prossima volta Mentre lo apro Stoppo Bene ragazzi Nel pacco abbiamo trovato questa roba Andiamo a vedere C'è un Ciro Mantegno Cioè Mantiene dischi Ok Fino a qua Sappiamo che mantiene dischi Oh Che cos'è questo? Oh FIFA 15 Cioè ce l'ho Un foglietto E lo leggo Allora Ciao Silvisore 10 Sono il tuo primo iscritto Mi chiamo Valerio Ho 12 anni E mi sono piaciuto i tuoi spacchettamenti Vedete c'è scritto Di figurine Sia di figurine che di figa 15 Però Da poche settimane Non stai più facendo video Continua a fare spacchettamenti Perfettamenti Almeno un video ogni 2-3 giorni E la città ti apprezzerà Come se alcuni non regali per te Guarda tu stesso Grazie Valerio Grazie Valerio Allora Vediamo Questa Mi manca Ce l'ho quella di Sassuolo Ecco Questa qui mi piace Ci sono Qui c'è questa Lettera Se la lettera Ci passa per te Se è stato invitato Ci passa per te Perché è stopo Se no non lo apro Bene ragazzi Nella busta Abbiamo trovato Un altro foglio Vediamo un poco Allora Nel tuo vecchio canale Avevi trovato loro Le belve Vi avevi mandato Anche le foto su facebook Che culo Oh Vediamo chi sono Ananovic Upgrade Eh sì Mi ricordo Eh sì Qua dovevo trovare un Noyer Nel primo pacchetto Che cazzo di faccia C'hanno Sti giocatori Ma cos'è sta roba Andiamo qua Uh uh 500.000 credit Eh L'ho veduto Da 104.000 credit Neymar Mi ricordo bene Anche di Rooney Vediamo Non c'è nient'altro Nella busta Me li ricordo Perfettamente Poi abbiamo Ciocchi Per i refresh Che di sicuro Non ci sarà Dentro un cazzo Vediamo Difficile Perché con una mano Mata Oddio Il disco c'è Oddio C'è l'altro Las Vegas È il gioco È il gioco che mi piace Di più Ti nasce molto La ninja Tarkless Mamma mia Ci sono Bene Nicole Valerio Ti ringrazio Per avermi mandato Questi bellissimi Legali Io sto Un attimo Mentre Sistemo Ho sistemato La roba Comunque Ho sistemato Di solo Dio Un poco Ma si 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 Ma ragazzi Quindi spero che questo vlog vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete iscritti mettete mi piace al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi